In una città dove bar, pizzerie, ristoranti, pub rappresentano più di un'attività commerciale, diventando quasi icona moderna di lavoro sano e di accoglienza, in una città dove il commercio non ha paura di protestare, aderendo al flash mob lanciato da Risorgiamo Italia. Le immagini delle serrande abbassate, ancora abbassate, restituiscono le difficoltà vissute da un'intera categoria. Niente asporto, nessuna riapertura, contestando il DPCM anche nella città degli imperiali. Gli imprenditori scelgono di non aderire, per così dire, alla fase 2. Non conviene, è anti-economico e contro natura, rispetto al concetto di locali, a ti far accogliere anche con un sorriso i propri clienti. E allora, oltre alla luce fasciata accesa, è giusto coltivare anche la speranza, magari in vista di una fase 3, che possa finalmente soddisfare tutti e ridarci indietro una vita di un commercio che oggi non esiste più. Grazie per la visione!